Dove va? Lela è nel friggere nella fadella. Bravo, Elato! Ora Giuliano, abbiamo preparato il soffritto, vero? Sì. Che hai tritato tu. Adesso un goccio di olio. Olio. Com'è l'olio? Olio extra di oliva. Perfetto. Guarda. Quanto? Cubi. Devo buttare il sale. Sì, che sale abbiamo? Il sale è grosso. Perfetto. Così? Sì. Spaghetti. Aspetta, prima ho buttato dentro il sale per friggere l'olio. Il guanciale. Ecco. Giulio, quanti spaghetti mettiamo nella pasta? Quattrocento. Nell'acqua? Quattrocento, benissimo. Quattrocento bilancia? Sì. Ok. Allora, tieni presente che sono cinquecento quelli lì. Apriamo il? Il guanciale. Vai, vai, vai. Ok. E poi lo mettiamo dove? Nella panella. Dai. Ok. Ascolta, l'uovo. La pezzo. Eh. Però per aprire l'uovo bisogna avere una leggera botta dove? Su qui? Eh, potrebbe essere. Un po' più deciso. Bravo. E che ci siamo quasi, Giulio? Sì. Guarda. 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 Bravo. Prova. Guarda. Sì. Così? Con il guscio. Perfetto. Guarda. Grande Giuliano. Adesso il pepe. Dove? Nell'uovo. Nell'uovo. Vai. Eh, dimmi tu quanto basta. No, no. Adesso cosa facciamo? Butto gli spaghetti. Perché l'acqua? Bolle. Bravo. Io così. Allora Giulio, adesso mettiamo? Il pepe. Ok. Dove? Nell'uovo e? E nel pecorino. Grattugiato? Romano. Grattugiato romano. Vai. Dove? Allora. Eh. Quindi aggiungo un pizz... Bo. Aggiungo un pizzico di sale. Eh. Così? È un cubì, ma pizzicato. Vai. Perfetto Giuliano. Giuliano, scusa. Il sale, quanto bisogna metterne? Cubì. Cosa vuol dire? Quanto basta. Bravo. Vai. Vai Giulio. Prendi. Prendi. Prendi le maniglie. Prendi. Sì. Prendi le maniglie. Ecco. Lasciò qui. Bravo. Prendi. Prendi. Tutto. Con calma. Bravo. Qua c'è la pancetta. Dentro dove c'è la pancetta? Bravo. Prendi. 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 Metti l'uovo. Metti l'uovo così. Vai. Mescola. Mescoliamo. Alla carbonara. Bravo. Dai. Bravo Giuliano. Computer. frickin. Phase terminaina. Cheggi.